In psicologia l'unico dogma è che non esistono dogmi. Ecco perché noi dobbiamo vivere nell'incertezza, dobbiamo imparare a vivere nell'incertezza. L'incertezza è un compito della maturità. Infatti ci ammaliamo quando vogliamo le certezze, quando ci barrichiamo in noi stessi. Iniziamo ad avere paura. Abbiamo paura di guardarci dentro. La ricerca interiore ci fa paura, ma questa ricerca interiore, che in psicologia è così importante, nasce proprio nell'incertezza. L'incertezza è l'unica qualità che ci avvicina alla ricchezza dell'anima. Il dubbio. Per avere uno sguardo più realistico su noi stessi è necessario un lavoro interiore che parte proprio dal dubbio, dall'incertezza, dalla demolizione di una coazione, a ripetere, di una chiusura a causa della paura della vita. Pertanto, per evolvere psicologicamente, noi dobbiamo elaborare questa paura. La trasformazione interiore la otteniamo superando la paura, abbracciando il sentimento, perché il coinvolgimento affettivo è uno strumento, è ciò che porta l'inconscio alla luce. Senza coinvolgimento affettivo non c'è consapevolezza. Il coinvolgimento affettivo necessita del superamento della paura. Dobbiamo entrare nell'incertezza. L'incertezza ci permette di essere liberi di amare. Come possiamo essere liberi di amare se non siamo consapevoli? Senza un giudizio critico non è possibile. Senza giudizio critico rischiamo di vivere secondo i pregiudizi sociali e culturali. La conseguenza di questo discorso è che il male che un manipolatore affettivo può infliggerci, che un narcisista può farci, deriva dalla nostra mancanza di consapevolezza, deriva dalla nostra paura, paura del nuovo, paura dell'incertezza. Pertanto, l'autocoscienza diventa un bene supremo da conquistare. Per questo dobbiamo continuamente esaminare la nostra vita per acquisire una maggiore consapevolezza. Attraverso la ricerca. Senza ricerca interiore. L'anima non si esprime. Si spegne. La ricerca interiore è fatta di domande. Domande che destabilizzano l'io con le sue difese. Domande che creano una situazione perturbante per l'io. Il perturbante è uno stato d'animo che destabilizza le certezze dell'io, ma proprio per questo lo apre al nuovo, lo apre all'incertezza e fa dell'incertezza uno strumento di ricerca. Il dubbio ci apre ai segreti investimenti della psiche, alle oscure aspirazioni dell'anima. Ed è in questo modo che noi possiamo dare voce alla nostra ombra, alle nostre parti scisse, che rappresentano appunto le voci dell'anima. Ed ecco allora che il percorso terapeutico è un'esperienza di incertezza, di deradicazione dell'io. A cosa serve? Serve ad oltrepassare l'idea che abbiamo di noi stessi. Se ci ancoriamo a questa idea, stiamo male, non ce ne rendiamo neanche conto. Quindi, primo passo, essere disposti ad interrogare noi stessi. Abbiamo l'onestà di chiederci chi siamo? Per cogliere questa verità occorre sviluppare uno sguardo particolare e non dobbiamo avere paura di abbracciare l'incertezza, di saltare nel vuoto. Non a caso l'eros ci dà il coraggio di saltare nel vuoto. È l'antidoto al vuoto. Per saltare ci vuole eros, ci vuole coinvolgimento affettivo. Allora diventiamo coraggiosi, diventiamo eroici e saltiamo nel vuoto anche se non ci sono delle braccia pronte ad accoglierci. Il contrario di questo vuoto, sapete qual è? è il troppo pieno, che in psicologia si chiama dogma. La persona dogmatica è una persona troppo convinta, è una persona che nella testa ha una serie di pregiudizi, di convinzioni eccessive. Il dogma è quando un'idea si cristallizza e questo è un vero e proprio nemico della conoscenza. In psicologia l'unico dogma è che non esistono dogmi. E solo se non esistono dogmi noi possiamo coltivare l'istinto creativo. Quando abbandoniamo tutto ciò che abbiamo costruito nel passato, quando abbandoniamo le nostre vecchie certezze, allora possiamo aprire il nostro sguardo e dare ascolto ad una voce interiore che è frutto di un'elaborazione creativa e della sofferenza. Ma non possiamo essere pienamente creativi se non siamo in contatto con la parte profonda di noi stessi. E il linguaggio più adatto a questo tipo di relazione è quello artistico, poetico, inconscio. Non dobbiamo avere paura di guardarci dentro. Se ci barrichiamo noi stessi ci ammaliamo. La ricerca interiore nasce dall'incertezza. Allora accogliamo una nuova verità. Questa nuova verità destabilizza l'io, l'abbiamo detto, che deve assumere l'atteggiamento di chi sa di non sapere il doppio. Allora il significato della nostra vita può cambiare. E nessun manipolatore di turno può avere la meglio. Nessun narcisista può manipolarci perché ci stiamo liberando dalle relazioni distruttive proprio grazie alla consapevolezza. Il percorso esistenziale di ricerca è ciò che ci rende liberi. Ci mette in movimento. È fatto di crescita. Nel percorso di fronte a noi c'è una scintilla di vita. Quindi la domanda importante è siamo disposti a vivere? Vogliamo la vita? Oppure preferiamo le difese? Le illusioni? Le bugie? Vogliamo la verità o la menzogna? Questa è la prima domanda importante che dovremmo porci. Per ogni ulteriore approfondimento vi rimando ad una playlist che troverete nel mio canale YouTube Roberto Ruge, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata. Se volete richiedermi una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando nome e cognome e i vostri orari preferiti. Vi ricordo inoltre che ho scritto dei libri che si trovano solo su Amazon. Buona giornata.